Prime ore qui a Pesaro, qual è così un po' il suo stato d'animo? Inizia un nuovo percorso per lei? Da una parte è incuriosito, da una parte è moderatamente eccitato, nel senso che il cambiamento è sempre un momento di grande stimolazione anche per un funzionario dello Stato. Non utilizziamo noi il concetto della burocrazia, a volte passa in modo sbagliato, però siamo persone che ci mettono passione e quindi vedere una realtà nuova è così intensa, così vivace come mi è sembrata Pesaro e adesso cercherò di conoscere anche la provincia, Pesaro, Urbino e tutta l'intera provincia. Sono momenti belli, richiedono riflessioni, empaticamente parlando però sono stati un primo incontro molto stimolante. Ecco nel suo saluto iniziale ha voluto sottolineare un aspetto che è l'associazionismo e i giovani, queste sono due cose le quali ho percepito lei tiene in modo particolare. Ma sì certo, qui siamo in terre di profonda cultura, insomma la cultura che cosa significa? Significa giovani e quindi sì, le do ragione, scuola, giovani devono essere, sembrano una miscia un po' lontana dalla prefettura, ma una prefettura sta in mezzo alla gente e la gente del domani la aiuti a formarsi oggi, quindi i giovani devono richiedere tutta la nostra attenzione, ne lo dico pure da madre, sono anche nonna, insomma è un messaggio assolutamente in funzione di un domani migliore di quello che abbiamo noi oggi. Quali sono i suoi propri impegni istituzionali? Abbiamo avuto ieri il primo approccio come logico, visto anche che stiamo tutti insieme, abbiamo incontrato il sindaco di Pesaro, abbiamo incontrato il presidente della provincia, il procuratore della Repubblica di Pesaro, il presidente protempore del tribunale, abbiamo fatto una bella riunione tecnica di coordinamento con tutte le forze di polizia allargata ai vigili del fuoco, abbiamo in programmazione forse domani il sindaco di Fano, dico bene? Spero di non dire un errore, quindi stiamo cercando e poi vorrei conoscere e incontrare tutti questi sindaci, perché insomma fanno un brutto mestiere, ecco fanno un mestiere difficile e quindi hanno diritto a tutta la nostra attenzione, tutto il nostro rispetto, tutta la nostra volontà di collaborare. A diversi livelli le problematiche...